Un fabbricato sotto sequestro e tre indagati è l'esito dell'attività investigativa portata a termine in questi giorni sul territorio di Santa Marina. Un'indagine che rientrerebbe nella più ampia inchiesta in materia edilizia che dall'estate scorsa sta interessando il capoluogo e la frazione rivierasca Policastro. Accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza e coordinati dalla Procura della Repubblica di Lago Negro che hanno già portato alla denuncia di proprietari di terreni e immobili in costruzione, le ditte esecutrici dei lavori, progettisti e direttori dei lavori. Nella lunga lista degli indagati anche funzionari del comune, familiari del sindaco e lo stesso primo cittadino. L'ultima struttura in ordine di tempo a finire nel mirino della giustizia è di 300 metri quadri e parzialmente ultimata. Secondo quanto accertato dagli uomini del comandante Tricoli della tenenza di Sapri il fabbricato è stato costruito in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico in assenza di un permesso di costruire valido ed efficace. A supporto di questa tesi c'è anche una consulenza tecnica. Al committente, al progettista e al legale rappresentante della ditta è stato notificato un avviso di garanzia. Il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP su richiesta della procura è stato eseguito dalle fiamme gialle del comando provinciale e dai militari del nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri di Salerno. Nei giorni scorsi nell'ambito di questa max inchiesta un funzionario del comune sarebbe stato interdetto dagli uffici ma questo capitolo è tra quelli riservati.